Gli dobbiamo dare la patente tipo di pirandello Ragazzi evitando la ladder di là per chi volesse andare Cambiamo Ok Ok, ah devo mettere quida Devo mettere quida quindi Oh no, vado Sono 4-0 per Burso Ciao location Bye Bye Mi fira, io mi mangio Alla prossima, grazie per lasciarmi un male Una volta, ok Prossimo torno che sbagliamo Di bravo Mi abbiamo già accostato Non ho dato il mio Mmmmm Ok Scusa, no, me l'ho trovato, c'era quello che ho detto, se avessi messo, non c'era proprio questo. Mi sa, sei troppo qua o non c'è? Sei troppo qua o non c'è? Sei troppo qua. Ricordiamo quella volta, il mio angelo adesso, il mio angelo adesso, il mio angelo adesso, il mio angelo. Scusa, no, no. Ok. Scusami. Va bene, dai, abbiamo iniziato un match completamente vigore. Quindi abbiamo comunque Zero Sweet di Burzov che oggi l'ha tirata fuori un paio di volte e gli ha portato fortuna, come abbiamo visto. E Oky che invece sta tirando fuori questo junior che sta maciullando la Liguria. Speriamo che non sia così anche per il nostro Burzov e che sia un gamebam combattuto. Qualcuno deve fermare i suoi Liguria Slaying. Qualcuno vuole darmi una mano a commentare solo? Dai. Ma non non è sia così giusto? Ampett привет! ock! Ciao ragazzi, mi fa in fondo, sono stata la fantastica杏ita elementare del Don. E sono qua per dire a Burzov che sono uno stupido, pðotolone, perchè ha vinti che stesse. Infatti, ti ha sentito Eh, giusto Io dico deserved C'è manco dice Ma il matchup è difficile, sì, sì, Junior prepara la metà di difficile Chiaro, chiaro Se a me tu ti schiliscio Probabilo Dovete fare sto PG bottom 10 Guarda lì Ma Junior fortissimo Secondo me dovete piccare Secondo me dovete piccare il PG vero La Samus Vera Non è Ah sì, la Samus Vera, giusto Ah sì, la Samus Vera, non la Zero Sweet No, non è vero, non è vero, la Samus fa schimmo Ma non ha perso, non ha perso il Junior, ha perso contro il Don Appunto E il Don è verissimo Appunto, non è vero Ah, no, è vero È fan scato Ma è bellissimo che prima il kart si è fermato dal Non si è venuto con il parallelo, adesso che gli ha sparato 0 E gli ha l'armor, gli va quando ti vuole Cioè, nel senso Lo dice anche a Rolly C'è armor quando gli fare piace Cioè, non è che c'è armor solo sulla panza Sulla panza Non funziona Esatto Cioè, non è che non funziona È letteralmente Iroh, ma uno step oltre Iroh? Sì Perché Iroh è RNG Se... Ah, ti scusco o no Lui è RNG forte Eh, ma lui è RNG se funziona o no È che è diverso Ah, sì, è vero Ma anche Z, sai se è RNG, può fare? O con le hit in generale Perché è schifo L'avete mica visto, ragazzi? È un giorno vero Assolutamente Infatti, oh mio Dio Cioè, ma... Voleva fare la signor lei qua Probabile Cioè, guardando tutto Ciao signor lei Ciao signor lei Ho messo Tango for lei Perché non sono andato contro Siron oggi La prossima volta che ciò Ti giuro che lo mette Doveva mettere stata lei Tango Sant'Agata Dai, Z, la prossima volta è una promessa Con un controllo che funziona Comunque... Non è ancora morto a 150 Ma perché parli? Io non ho detto niente Eh, vedi, eh, io non ho detto niente È perché non ha fatto un pummel in più È colpa di Dotti Deveva fare un pummel ex E sarebbe morto Eh, infatti Io non ho visto più in game Io dico che è morto dietro Ah, io dico che è morto È morto quando ha preso sto BG in character select Non è che lui lo prende da tre anni Deve smetterla Eh, sì, è tipo me Che continuo a pigliare il mio cesso a pedali Io sto pigliando l'altro Adesso ha un altro BG leggi Tu il game watch è anche che ha ancora lavoro Eh, proprio tu mi continui a rompere il bellino Perché uso la tua skin È vero, è mia Non è vero, è la mia Non è vero Ma è morto Io ho usato game watch la skin rossa nel 2018 Bro, bro Io ho nel 2002 Giuro, tu leggi È vero Mini player io Ho 4 anni Ci sono fonte per conservare Assolutamente sì Però io con dei te non funzionano Che batto Gunkbox Con Samus No, no, no Cosa fai? Sto notando la canzone della tartaguga Ma qual è la canzone della tartaguga? C'è Un post di Reddit Non dovrei dire Lo dirò C'è un post di Reddit dove c'è questo che dice Eh, regalezza No Sesso Comunque Burzo fa schifo E la pancela è nel sesso ZSS Io non posso per questo Ah, oh Go, go Go, go No È la cocaina ZSS ZS È la cocaina che ha se li fa l'effetto È la vostra Z di ZS Esatto, bravo ZS È il grab di GameCube Z ma di ZS Cosa? ZSS Che sesso Che sesso Ma non ci c'è nessuno Sesso, sesso Ragazzi, petizione per farvi bannare Non ce la faccio Giustamente qui Giustamente qui Sì, sinceramente E io che pensavo Volessi battere Dovevo tenerlo il commentare cazzaro Ah, è vero Ci serve gente come noi, no? C'è gente qui Dai quello che chiede Che casta Andando Godo proprio per la mitra Godo Quindi non voglio dire che adesso vince O voglio dire che fa trasti Ma io non sono un po' uffish Ah, vabbè Ma non avevo avuto il tempo di cambiarti Assolutamente io A me non avevo avuto mica il tempo di cambiarti il nome Che sei caster di Genova Poco professionali Shake my head Ma perché non funziona? Ma parli tu che non riesci neanche a premere il punto Ma perché non funziona il punto di domanda? Ma c'è il punto di domanda? C'è il punto di domanda? Io non voglio il punto di domanda Ma che problema è stata sera? Aspetta un secondo Cosa stai facendo? Ragazzi, ci sono, lo giuro Ma perché devi fare un punto di domanda? Ma cosa vuoi premere tu? Questo è l'underscore Di cosa vuoi fare? L'underscore è questo, no? Ma perché? Ma perché mi funziona il punto di domanda? Adesso lo carano Andrei, come funziona sta tastiera Che non riesco a fare l'underscore? Aspetta che devo cambiare Ma te l'ho fatto io l'underscore Skin quella invertita Che è Qual era? Eh, questa quella invertita No Eh, questa quella invertita Scusate Ma vabbè Come ti vuoi fare l'underscore qua? Vieni fuori un punto di domanda Io ho fatto questo E se fa il punto di domanda Rieni fuori un... Perché sono i switchati? Non lo so Comunque dobbiamo cassare Eh, va bene Funziona così Lo sopprendo dopo Ma io te lo sopprendo Che cosa è successo? Che sono even Figata Ok, non ci siamo persi niente No Ci siamo persi i pg Un pg che clicca E l'altro che ci prova It's ok It's ok Ok Fico Sta inizio di Burzo Sì Che deve Istantanamente Come altro vuoi che Parmai Tu dicevo Devi switchare a Mitra Che è neutra Eccetera No, no, no È la Burzo of Tech Cioè se Se stai pigliando il cazzo con Mitra Con Pyra Non è che devi switchare a Mitra Tu clicchi con Pyra Tech Chase un po' povera E come puoi vedere Ogni tanto funziona Quasi Perché non aveva abbastanza rage E dai Adesso è tempo di Pyra Di Mitra Vabbè sono la stessa roba Sono trambi rotto 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 Ah, hanno entrambi la tette? Eh, anche ZSS Eh, ma ti sa se ce l'ho Ma raga, siete inscritti Perché è vero? Mi chiedo, ti puoi provare i string Io che faccio i roni posting, peraltro No, per favore Io non l'ho mai fatto in Vitamina In Mino Ar Allora, parca 3, 74 danni Final Mix di Guburzo con gli Steve Non farlo No, ti prego No, ti prego Final Mix di Dondaki Ed è di merda Già, Pika ZSS Sì, infatti Mistià Orca, battana Vandone mia Vediamo con Mitra Un smash missato Ma va bene La scatagola non prende Oh yeah Già, mi rimasto lì sul posto Qualche motivo Non so cosa stai scucinando Doki Non so Oh, mi vero Ok, Doki, Doki vuole killare Sì, Doki vuole ucciderlo C'è Non vuole zuccherarlo Da un'erra No, bella Oh, l'erdoge Non ha fatto la rolli Se non era probabilmente morto Becker Infatti, guardi Il modo in cui io faccio Il modo per evitare la rolli È Se vedo che sta sotto È lo scudo Beh, sì Giusto Cioè, perché tanto Quella mossa è tipo Minuc 30 on shield Quindi Che me frega Ma perché il junior di Doki sta funzionando Perché la Liguria è qui? Ma perché è vero No, l'erdoge Mi ha fatto il culo Perché ATH ti ha crackato il controller Sì, esatto È stato lui È l'assetto Ovvio La rolli Eh, vedi Per un detto Bisogna fare una cosa È esatto È tipo È tipo Solo Piccone Può fare Piccone Esatto Amo Piccone Amo Tutti i miei fra amano Germano Piccone Germano Piccone Germano Piccone Noi schia Meca Koopa Meca Koopa Siamo facendo parecchio un buon lavoro Per tutti Occio lo scudo Mamma mia Sì, ma lì non te ne frega niente Da realtà Puoi tencarti entrambe Sì, però è danno Non vuoi prenderti Di solito Vabbè, tanto è pyro Cioè, usa pyro Sui c'è mitra Il camper è a 5 secondi Ostia, nooo Lo scudo Nooo Ma siamo 2 a 0 Regà Friguria È stato patato È stato patato Suona male Non so perché Suona riguria Ma che set è questo? È loser quarter Sotto potto Ah, ben già scritto Perché vuole appare Ah, invece sì C'è che appare Eh, raga, sono stupidato Non lo ho cambiato io prima Non so giocare al gioco Non so giocare al PS Non so per dire Comunque CSPG immagina entrambi Non so se ho piccato davvero Steve Mi vengo lì E tre una sberla Se ripicca Pica CSS No, vediamo Oh, sì, ok Ha fatto skin counterpick Godo Ha vinto, basta E comunque fa molto ridere Il fatto che un CSS Gli abbia tolto più stock Che compare in tre per il momento Vero? Sì Ma perché deve Scegliere la mente Ho capito perché Ho capito diet 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 È sempre nel nostro cuore Vero A parte di chi va a torno Quindi di nessuno Dai che già Ho 43 anni Buono Io mi piace Sarò palesemente riparto Perché tipo Io non sto tipando per nessuno Io voglio vedere Che si picchia Ha senso Bello Buona mentalità Sono entrato oggi Con questa prospettiva In dal torneo E la voglio mantenere Anche mentre Commento Ottimo advent Iniziale di burgo Che arriva a Tutti Se gli ucciso Oh la madonna Oh si è svegliato Finalmente Se si è svegliato Uno stock In te lo di vantaggio Però Questa torna giunga Praterra Va bene 55 Non è pericoloso Dochi è deciso di Fare offstage trapping E aspetta Perché Gli ho comprato 60 anni Dove non ha preso Non dovrebbe morire No 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 E mi bastava Che facessi Nair Tu vai offstage Fai Nair Scendendo E lì è Ha comunque Mix up Eh ma quella Andiamoci che Per l'attivista ufficiale Di Smarsel E questo è il PG22 Vero Honestamente Fattibile Non è che chi prende Stai a mente quella tira Ostia C'erano alcuni pick Che vedevano Bizzarri Ma Adesso è morto Adesso è morto Però vabbè È comunque un leggero vantaggio Burzov Sì Sì C'è un elemento Avanti indietro Perché Prima Burzov L'ha pisciato Poi Doki L'ha pisciato E adesso sembra che Buzzò per piscire di nuovo Non capisco Come funzionano Questi player È incredibile Questa è Questa è È l'ecosistema Ligora Guarda lì Veramente Siete Prede predatore Alternate Alternate È incredibile Come funzionate Tipo quei meme Della persona Che si sveglia La mattina E cambia genere Noi cambiamo Da prende predatore No Ok Tanto ogni volta Io penso sia Tipo di razioni Assurdi Con quella tech Il trattore Punish E va bene Vabbè lì Ha punito Era un whiff punish Cioè Potrebbe andare direttamente lì E prenderla No no Non hai capito Cioè lui sapeva già Che non sarebbe finito lì Sapeva che avrebbe cliccato Per punirlo Ed era un whiff punish Oh è morto Doki Che ha fatto la cagata No 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 È tutta lì Tipo Lucario Merda No Mi sa che è morto Sì è morto Questo Dio È fortissimo È indecente C'è un knockback Indecente Quel jab Un altro jab Sì Oh no Ora riprende il momento Un Doki Sì Dopo si è suicidato Vediamo È battito Se non ci riuscirà Riprende la situazione Sono 35% di danni Ok Un tilt Ok danni Carina 26 Mi ha fatto molto Arriva il figlio Ok No l'ha buttato un po' Nel cestino Esatto Sì Un R Che ferma il kart Che non ha armorato Stavolta Cioè non ha armorare Noi Becker Ok Ok l'ha riversato Molto bene Ottimo L'azione Adesso arriva Paglia No No Sbagliare punish Lì forse era un dare Secondo me Sì sì Assolutamente Cioè Mi sembra strano Oh l'ending Tutto Il nere Criminare Quindi non ha senso Di quale Quale mossa Di questo Poi non ha senso Cosa non fa Ma sì L'altra sua Mi sembra Circa Cioè Non fa schifo Comunque Mi sembra Dai Dai Mi stia Mi dà un tilt Ok E' la situazione Mi Ok Bravo Che ha saltato Torna Mi Tra Non ci Credo Torna Mi Tra Raga E' Come si gioca il pigino Scusate E' morto No Ma dai Quell'air dodge Era Prato Paira Morirà No Adesso E muore Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia E torna Perché stai cambiando il nome De uno Perché Adesso è il mio Ero Campione Della Liguria Burzo Ha capito il segreto Di Pyramitra È fortissimo Raga Basta Non usare Pyramitra Paira E' così vero Quest'anno Burzo Paira Easy Raga Il prossimo Paira Abbiamo Don Top Don Top 1 Cristo 20 Sì No Ok Cristo 20 Cristo 20 È molto Cristo 20 È molto Cristo 33 La King Con Fran Di Giuda Incredibile Giuda Mi Sceva L'hanno Chiamata Il Bacio Sulla Guancia Che Stronzata Che Stronzata Però è divertente Ma quel matchup è meno 2 È incredibile Cioè Poi lo smaffinare La crocifissione Cioè Assurdo Se non ci Vanno lo switch Adesso Non ci vanno Più No Lascia attacca No Apera E no Quella È l'ultima stock Israelita Beh Calvi Israelita Già Basta Basta Io dico che è fitting Io dico che mi dissocio Io dico Ascoltando È un casting non professionale Ma fitting per il set Che stiamo vedendo Cosa ho visto lì Che c'è Guarda Guarda Si è fermato Per un momento Ha ignorato l'esplosione Per qualche motivo Si è fermato Per un momento Junior Ha fermato il tempo Tipo Stif Col blocco È rimasto Fermo Un secondo lì Mamma mia Mamma mia Sa tutto Non lo premo Stavano Stava combando L'aria La vera Che il confirma Era l'ultimo It Che reazione Non è vera Facilissimo Madonna Ok No dai Almeno Sanno fare di AI Almeno Sanno fare di AI Tutto A tutto A tutto A meno Che far La perdita A quello Non sanno Fare di AI Io so fare È molto facile La gavete il ciugno Lo sono d'accordo Impari a fare A meno che non ci sia Un cross up cringe Ma te ne accorgi Eh no Perché c'è l'espinta Almente negativa A quel pg Si ma dura 26 anni La mossa Te ne rendi conto Magari una volta ci muori Ok Ma non c'è parte Ma te nemmeno Dipende Io gioco con persone stupide Infatti Io gioco con persone stupide Beh l'air dodge Ti pare un Ti pare un Dove un contagio di occhi Merda Questo potrebbe essere L'ultimo team di L'ultimo game L'ultima 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 L'ultimo game Si l'ultimo game Che cazzo Io ti ho lasciato fare I due l'hai fatto bene Si E riuscissi Oh mio dio Oh mio dio Ma tocca No E' il tristazio Eccolo Inizia Bassa Adesso gli fa 3 spike in 2 SD Vedrai Vedrai Easy Ah no Spensa No Non ascoltarmi Questo è il vero casting Ligure Esattamente E' quello che io sto cercando di impedire alle persone Non forse ve l'ho detto ma io sono Ligure Vero Merda Andrei No Madonna Quanto Andrei Abbiamo visto E lo Io ci ho creduto fino alla fine Io Ho quasi dato Pagno